Claudio si sta confidando col suo amico Alfredo e gli dice Alfredo, io c'ho un grosso problema di carattere sentimentale c'ho il piede in due staffe, me sento conteso tra due donne che però sono una diversa dall'altra, non so quale sceglie una c'ha 60 anni e non è tanto bella, però c'ha un sacco di sordi, te dico è straniardaria macchine, ville, c'ha de tutto, non gli manca niente mentre invece l'altra c'ha 25 anni, bona come il pane certo, mi piace molto di più, solo che non c'ha una lira e Alfredo, ah Cla, ma che è tutto, ma in amore le cose materiali non contano tu devi scegliere quella che ti piace di più poi in amore è bella la freschezza, è bella la giovinezza ma che è tutto, ma scegli quella dei 25 anni e Claudio, mamma mia, grazie Alfredo, guarda ma hai tolto proprio un peso dalla coscienza grazie, ciao e Alfredo, no no no, aspetta un attimo quella ma me lasci il numero di quella dei 60 anni?